Ho tracciato una linea sulla sabbia e ho vinto. Dovremmo festeggiare. Volete qualche minuto? Preferisco continuare a guarire. È questo il punto. Tu hai vinto. Senza dirmelo, hai fatto una richiesta che avrebbe potuto mandare tutto a monte. Non è andato a monte. Hanno ceduto. Lo dici sempre nei tuoi seminari. Il processo è importante quanto il risultato. Mi vieni davvero a rompere le scatole perché ho fatto una piccola mossa senza di te? Ma perché non ti fai da parte e mi lasci fare l'uomo in questo rapporto una volta tanto? È meglio non parlarne adesso. Non so perché l'ho detto. Mi sono così arrabbiato. Spero che dopo questa dose si sentirà meglio e potremo mandarla a casa. Ma vorrei fare solo un altro test. Spero che dopo questa dose si sentirà meglio e potremo mandarla a casa.